Nicola scusami Nicola no dopo Luca c'è Nicola vai grazie tanto buongiorno a tutti grazie io vorrei esprimere il mio disagio di questi giorni non solo perché c'è un problema di governo ma il mio disagio dove spiegare l'Italia a dei colleghi stranieri perché guardate è tremendo no? Cioè avevamo Draghi quando c'era Conte detto ma abbiamo messo Draghi era facile quando siamo arrivati lì e c'è Draghi e qualcuno la butta giù da spiegare è difficile ma davvero difficile io ho mandato un messaggio e nella chat dei presidenzi della presidenza di Renew siamo otto vicepresidente il presidente e tre vicepresidenti del Parlamento non vi dico le parole che con cui hanno risposto ed è il disagio che abbiamo oggi come italiani a spiegarlo ai cittadini ma in Europa non si capisce cioè non lo so ora le squadre ognuno dice la sua no? Ma se dentro uno c'è in squadra il campione del mondo il miglior giocatore della terra e noi dice guarda nulla levati di torno non ne abbiamo bisogno. Questo è un tema vero e la difficoltà di queste ore di questi giorni io credo che in questo anno di governo Draghi anno e mezzo noi l'abbiamo io l'ho visto con i miei occhi che cosa ha voluto dire il governo Draghi in Europa che cosa ha voluto dire essere protagonista dell'Europa cosa ha voluto dire essere leader in Europa e siccome l'ho visto solo un'altra volta era dal 2014 al 2016 mi ricordo mi ricordo che c'era presidente consiglio allora però allora lo vedevo ecco che c'era un un leader politico forte in Europa aveva l'autorevolezza non l'avevo visto dopo con il conte uno con il conte due non l'avevo visto eh in altre altre volte l'abbiamo visto in questo siamo catapultati in una fase un po' complicata perché noi non so non si sa e insomma chi si occupa di politica nazionale nel Parlamento nel Parlamento nei prossime ore capiremo qual è però io credo noi dobbiamo prendere atto della fine di una storia il novantaquattro segna l'inizio della seconda repubblica io penso che il come oggi è costituito il sistema politico italiano avviarci a delle elezioni che siano queste a settembre che siano queste a marzo o a maggio con uno schema del novantaquattro sia un grave errore politico perché quello schema politico lì è ormai consunto morto nel novantaquattro c'era un test un centrodestra a guida diciamo prevalentemente di centro Berlusconi che era Berlusconi aveva altri problemi ma insomma aveva una determinata visibilità dall'altra parte c'era un centrosinistra una guida riformista e noi invece adesso andiamo a una a delle elezioni nelle quali rischiamo che questo sistema ormai consunto da questa storia degli ultimi anni sia lo schema politico su cui noi dobbiamo andare io penso che noi questo schema vada rotto e i protagonisti dobbiamo essere noi per rompere questo schema perché non funzionerà non funzionerà e non funzionerà soprattutto dopo non per le le leggi elettorali che sono un problema ma non funzionerà per la politica perché non può funzionare un paese governato dalla Meloni e non può funzionare un paese governato anche da qualche bravo amministratore del centro-sinistra e del PD insieme a quelli che oggi buttano giù Draghi ciò non è possibile e allora io credo che noi abbiamo un ruolo importante in questa fase e questo ruolo che noi abbiamo si definisce non rispetto a la condivisione o meno di opinioni altrui ma dalla capacità nostra di mettere insieme un programma e una proposta politica che possa ottenere il consenso di quei numeri di cui parlava Matteo all'interno nel suo intervento io non so se sono quindici milioni io vedo che tanta gente oggi non ha la risposta alle domande che chiede questo paese alla necessità di questo paese alla serietà che chiama questo paese e io credo che noi abbiamo dalla nostra parte alcuni elementi importanti che è la storia del governo e la storia di questa legislatura nella quale noi abbiamo certamente eh impresso un una come dire eh una svolta decisiva due volte nel duemila eh diciannove e eh poi nell'ultimo anno e mezzo con l'arrivo di Draghi però dobbiamo anche affrontare alcuni temi essenziali molti l'ha definiti Matteo eh oggi insomma ho avuto un po' di bribido quando ho sentito che siamo diventati il partito laborista nel senso come il partito del lavoro l'ha definito Matteo era come dire una suggestione però è un tema vero perché il tema dei redditi il tema del lavoro come definiamo questo è un tema importante io pongo un po' perché mi sono occupato eh nel Parlamento europeo ma guardate una delle grandi asset è il tema dell'energia noi siamo preoccupati per l'inverno che viene siamo preoccupati per il clima di questo nostro pianeta e siamo preoccupati perché c'è un approccio a questo tema tutto ideologico e minimamente pratico minimamente razionale e lo abbiamo visto nel Parlamento europeo quando si votava sulla tassonomia e solo perché erano sicuri che perdevano ho visto colleghi del partito democratico che allegramente si sono come dire hanno fatto la battaglia per non inserire il gas e il nucleare tra le energie sui quali possiamo inviare mettere soldi per finanziare investimenti ecco perché penso che questo sia un tema vero nei prossimi anni questo mi porta a dire che abbiamo un altro tema vero perché se oggi in Italia non abbiamo il dispiegamento necessario delle energie rinnovabili è perché abbiamo un potere asfessiante della burrazia perché siamo in mano alle sovrintendenze di ogni genere che in ogni comune che in ogni realtà bloccano tutti gli investimenti se vogliamo avere un paese competitivo e se è la nostra volontà a creare un paese che compete con il resto del mondo e guardate l'Europa fa fatica a a competere nel resto del mondo siamo ancora forti ricordatevi che siamo ormai piccolini l'Europa sa quattrocento milioni abitanti e c'è venticinque per cento del PIL cioè siamo il sette per cento della popolazione mondiale e venticinque per cento del PIL un quarto della ricchezza quello che avverrà nei prossimi anni che Matteo ha descritto bene è lo spostamento della ricchezza nel mondo e guardate noi siamo quelli città da perdere non da guadagnare se vogliamo competere noi lì dobbiamo costruire le nostre linee di azione l'Europa l'ha tentato di fare con il next generation you con gli investimenti sull'ambiente col digitale ma il nostro paese siamo in grado che è oggi ha gli strumenti per poter proseguire l'azione che con forza il governo Draghi ha portato avanti e che nei prossimi mesi sarà ancora più impellente perché ci saranno le scadenze del PNR e altri elementi che credo siano indispensabili noi abbiamo bisogno di riaffermare il progetto di riforma istituzionale di questo paese perché senza quello noi non saremo mai competitivi non riguarda noi ma questo è un tema che noi dovremmo porre all'attenzione dei cittadini se il 40 per cento è andato a votare il referendum a dicembre 2016 lì dentro c'è tanta gente che ancora crede e ritiene che sia determinante come dire strutturare un progetto di riforma dei paesi e poi c'è l'Europa guardate l'Europa ha fatto grandi passi in avanti ma l'Europa vive oggi una enorme difficoltà e la vivrà nei prossimi mesi ancora di più per quelle questioni geopolitiche che diceva Matteo nell'intervento dalla crisi alimentare e da come questa crisi impatterà sull'Africa che sarà fonte di come dire probabile migrazione e le probabili migrazioni non sono i 600.000 nell'anno Ribilis quando dicevano l'invasione nel 2015 quando era 15 saranno milioni e questo è un problema e sarà la benzina nella destra nel prima della campagna elettorale o dopo o durante la campagna elettorale abbiamo bisogno di rafforzare l'Europa sul piano istituzionale e abbiamo bisogno perché oggi l'Europa non ha più i soldi che aveva due anni fa noi non abbiamo le risorse per poter affrontare come dovremmo questa crisi lo dico perché il Next Generation U è stato un jolly che abbiamo giocato abbiamo fatto debito pubblico europeo ma abbiamo smesso di fare debito abbiamo continuato a fare debito pubblico nazionale oggi siamo al centocinquanta per cento ma abbiamo fatto debito europeo oggi investire in maniera massiccia come vorrebbe come necessiterebbe la transizione ecologica la transizione digitale le sfide della guerra che abbiamo davanti dovrebbe impiegare Europa a trovare queste risorse siamo in difficoltà perché abbiamo già spesso i primi jolly la nostra capacità di indebitamento a livello europeo è già un po' limitata e questo è un problema allora in tutto questo io credo che noi dovremmo su questi temi e su quelli che ci ha posto Matteo provare a declinare la nostra proposta politica e la nostra proposta politica guardate se noi la decliniamo bene e mi pare che ci siano gli elementi per gli interventi che ho sentito stamani per quello che ha detto Matteo per i suggerimenti che sono emersi ieri anche la riunione con i deputati io credo che questa è la carta di identità che possiamo presentare ai ai cittadini italiani per le prossime elezioni dobbiamo farlo da solo io credo che abbiamo un modello in Europa abbiamo costruito un gruppo politico che si chiama Renew Europe siamo parte di quella famiglia politica guardate è normale che nel Renew Europe ci siano due o tre partiti nazionali cosa che non c'era per esempio nel gruppo socialista nel gruppo popolare molto spesso c'è un partito in ogni paese ed è quello il partito di riferimento in Renew Europe in tutti i paesi ci sono due partiti due o tre partiti anche nei paesi piccoli no e questo non vuol dire che è una ricchezza certamente ma noi dovremmo avere questo modello perché alle prossime elezioni potremmo e dovremmo dare una risposta eh potrebbe essere il modello di Renew quello con cui noi ci presentiamo alle prossime elezioni io penso che non non sarà la competizione sui tweet ma sarà una competizione sulle idee e su quelle noi possiamo vincere credo che qui approvato in questi anni personalmente chi in maiera diretta chi in maiera indiretta semplicemente perché un membro della comunità di Italia Viva eh come dire tutto ciò che vuol dire l'odio la cattiveria e non ci fa paura come diceva Michele Passirelli nell'intervento affrontare una campagna elettorale anche da soli eh io credo che non abbiamo paura una stella l'abbiamo davanti oggi sta a noi provare a costruire questo programma politico e io credo con questo programma politico troveremo il consenso necessario prima con dei compagni di strada e poi per affrontare le elezioni non so se per un milione e mezzo di voti per due milioni di voti per tre milioni di voti so che l'Italia Viva ha un senso solo se serve a questo paese e mai come in questo momento questo paese ha bisogno di Italia Viva grazie grazie a Nicola c'è Nunzia